E' rimasto in silenzio di fronte al giudice Stefano Cascone, il 53enne di Pozzo della Chiana che lo scorso lunedì ha aggredito la moglie a colpi di martello all'interno della loro abitazione. Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere nel faccia a faccia con il GIP che al termine dell'udienza di convalida dell'arresto ha deciso che l'uomo dovrà restare in carcere accogliendo così la richiesta del PM Laura Taddei. Il 53enne sul quale pende la pesante accusa di tentato omicidio per il giudice sarebbe infatti ancora pericoloso. L'avvocato Giacomo Chuchini aveva invece chiesto per il suo assistito una pisura meno pesante. Il 53enne prima della chiusura delle indagini potrebbe comunque rendere interrogatorio. La moglie, 48enne commessa in un supermercato di Bettolle, intanto ha provveduto a sporgere denuncia nei confronti del marito dal quale sembra volesse separarsi. È fuori pericolo e si sta lentamente riprendendo, ma ancora si trova all'ospedale delle scotte di Siena dove l'è stata refertata una prognosi di oltre 30 giorni per le ferite alla testa. Ancora da chiarire il movente al lavoro i carabinieri che portano avanti le indagini e che hanno già sequestrato il martello con cui l'uomo ha agito.